seconda edizione del nostro telegiornale bentrovati oggi giorno di ogni santi grande afflusso come tradizione nei cimiteri per portare uno fiore a chi non c'è più a catania è stato ordinato l'accesso al cimitero di via acquicella anche grazie al potenziamento dei servizi di trasporto pubblico interni allo stesso cimitero ma anche esterni che hanno cioè collegato il cimitero con la restante parte di catania parliamo sia di servizi gommati che su ferrovia che dunque su rotaia vediamo insieme lei viene ogni volta in questa giornata di festa o è un caso io vengo quasi sempre perché per disgrazio c'è mio figlio qua quindi meno una volta al mese c'è chi viene sempre per via del pesante fardello che la vita gli ha riservato e che compie immancabilmente la propria visita in occasione della festività di certo quelle del primo novembre di domani festa dei morti sono date che non possono passare inosservate se per ogni famiglia un conforto una tradizione rendere omaggio ai propri cari scomparsi per le istituzioni il dovere e rendere i servizi a portata di cittadino cosa ha fatto semplice quando si hanno spostamenti massicci nelle arterie cittadine e l'affluenza il cimitero e di portata eccezionale oggi nella zona dei tre cancelli a catania non si registra particolare caos è un dovere per i nostri defunti ma è stata una bella cosa sì sì grazie come avete raggiunto il cimitero a piedi a piedi la facciata siete vicini insomma un po di movimento ci fa bene avete raggiunto facilmente il cimitero oggi in moto si con due ruote si è stato facile pensato di soffrire la confusione non è dei mezzi di altro nota che c'è poca gente rispetto agli altri sì sì questo anche io ma c'è stato per quello che so precedentemente molta più confusione poi in macchina e abbiamo lasciato la macchina alla vecchia stazione devo dire che e poi a piedi devo dire che insomma è andata bene non abbiamo no no infatti ci chiedevamo come mai si fosse verificato questo miracolo del lato dove vado io è tutto a posto non ci sono problemi non glielo so dire la pulizia era al massimo l'ho trovato più ordinato l'ho trovato più ordinato anche se tutta questa confusione non non la gradisco io sono residente a tre castagni e preferisco l'intimità di tre castagni questi cimiteri delle grandi città non non li amo di avai frequente di bus circolari all'esterno è stata resa più visibile la postazione dove è possibile avere informazioni e munirsi di biglietto sul posto il presidente dell'MT anche lui sui bus per verificarne l'efficienza quest'anno ci sono diverse vetture il doppio degli anni scorsi all'interno del cimitero perché non si può accedere quindi soprattutto anche per le persone anziane ci sarà un servizio che come ogni anno accompagna tutti i cittadini all'interno del cimitero è stato potenziato anche il servizio di accompagnamento per i disabili ci sono due navette che sono dedicate esclusivamente ai disabili quindi con tutte le apparecchiature del caso e poi per quanto riguarda l'esterno del cimitero oltre la convenzione che il comune ha fatto con trenitalia che fa dalla stazione alla fermata a cui c'è un servizio gratuito c'è il potenziamento delle linee dell'MT quindi raddoppiati tutti i bus delle linee che vanno al cimitero o nelle prossimità del cimitero che sono state deviate il cimitero resta aperto dalle 7 alle 17 così come le confraternite queste domenica rimarranno aperte fino alle 12 mentre i tre cancelli chiuderanno alle 13 tanta la gente ovviamente anche nei cimiteri della provincia di catania della città della provincia di catania siamo andati sia sulla riviera ionica che in quella accese vediamo giornata di grande affluenza nei cimiteri della zona ionico etnea pulizia e necessario decoro ovunque navette per disabili predisposte sia nel camposanto di giarre che in quello di riposte ad acicatena assente invece il servizio ad acireale un giorno festivo malgrado la ricorrenza della commemorazione dei difunti cade il 2 novembre scelto da tanti per portare un fiore sulla tomba di chi non c'è più oggi non c'è che dire un altro giorno anzi c'erano le lampatine spende in quella zona ma erano per tutti perciò si vede che ora l'hanno ripristinato è un giorno nel quale ci si concentra per ricordare i nostri cari? sì ma io vengo ogni 15 giorni massimo perché ovviamente per mio marito c'è un mio marito purtroppo e perciò e poi ora i miei suoceri comunque è importante che non si perde il ricordo delle persone care ci mancherebbe per me certo oggi una è tanto per perché una ma è la tradizione ma io vengo per concentrarmi forse più nelle altre occasioni le sto trovando sistemate e pulite c'è ordine e pulizia? sì io sto vedendo questo ancora sono proprio all'inizio sto entrando adesso ma per quello che riesco a vedere mi pare di sì onestamente non mi posso lamentare io l'ho trovato pulito migliorativo non lo so stanno facendo questi loculi nuovi l'auspicio che magari sia così sempre non soltanto un'occasione della giornata di oggi sì questo sicuro non bisogna pensare soltanto alla ricorrenza di tutti i santi ma che anche durante tutto l'anno se c'è da fare qualche cosa o intervenire sulle sterpaie sulle cose che ben venga grande affluenza di autoveicoli nei pressi dei cimiteri ma nei vari casi la viabilità è stata gestita nel migliore dei modi abbiamo portato il cimitero ad una condizione veramente ottima dal punto di vista della scelpatura dell'erba anche dei fiori un po' dappertutto anche un po' di manutenzione dal punto di vista esterno abbiamo lavorato molto con la viabilità c'è una buona squadra di vigili che sta operando affinché si proceda nei migliori dei modi sapete benissimo che c'è parecchia gente, parecchie macchine, parecchia affluenza in questo periodo e cerchiamo di portare avanti nei migliori dei modi questa viabilità che è ancora importante in questi giorni è vitale importanza il servizio navetta? sì vitale importanza perché abbiamo messo un pulmino per i disabili quest'anno ed è importante da un paio d'anni che lo mettiamo il secondo anno, il terzo anno non ricordo preciso e più abbiamo un'altra navetta che fa avanti e indietro perché ci metterà abbastanza grande soprattutto per le persone anziane e i disabili in particolar modo e questo è un periodo anche molto ricco, florido di dolci particolari che vengono preparati solo in questa parte dell'anno da maestri pasticceri particolarmente abili vediamo a non chiamarlo spettacolo si fa peccato altro che reality show la maestria dei pasticceri made in Sicili di lunga esperienza si mostra senza veli com'è raro vederla e viva i giovani pronti a carpire i trucchi del mestiere è una cucatola tradizionale tipica quella tipica è un pasto di biscotti tutto un mescuglio di biscotti, cioccolato, nocciola, mandola un misto, si inforna e poi si mette la marmellata di sopra che marmellata eh? è un misto, un composto, cotogna, passato a bicocca, zuccata tutte queste marmellate e pure l'arancia se vuole si mette questa crema e poi si mette di sopra e poi si fa la velatura o con la cioccolata bianca o con la cioccolata tradizionale fondente ogni occasione si sa nella nostra tinacria si trasforma in riunione, condivisione familiare e capricci del palato la festa dei morti va a braccetto con i suoi dolci tipici dalle rame ai mostaccioli, ossa di morti e nucatoli al di là delle variabili la sostanza non cambia negli anni invece poi si è andati avanti ognuno ha inserito insomma delle novità e quali sono oggi tutti i vari gusti? quella a pistacco alla nocciola che ci abbiamo inserito nocciola, caffè e la nutella? e la nutella insomma per fare contenti tutti? per accontentare una festa di tutti i clienti nel tempo innesti di fantasia e sperimentazioni ma il primo amore non si scorda mai alla fine personalmente lei quale preferisce di questi dolci? lei ce l'ha una preferenza, un amore personale? quella semplice, quella mammellata quella tradizionale quella tradizionale che poi alla fine la tradizione vince sempre vince sempre ingredienti genuini, materie prime selezionate l'immagabile frutta secca la base che accomuna le varie forme, lavorazioni e poi tanto cuore dice il maestro Pappalardo le cose fatte con amore non fanno ingrassare ad Acireale si chiama questa lungatola a Catania la chiamano rama di Napoli ma chi è che l'ha inventata per primo? questo è un lavoro che è uscito da Costarelli 130 anni fa quindi Acireale, Acireale vince? secondo me sì Peccati di Gola complice una tradizione ben solida che si tramanda da padre in figlio sono tante le richieste anche per spedizioni oltre lo stretto per un'attività storica il segreto adattarsi ai cambiamenti senza mai rinunciare alla qualità distintiva la crisi è un bocce ma non l'avvertiamo per il lavoro ma l'avvertiamo per tutta la pressione che abbiamo addosso di quella che tutti quanti avvertiamo non solo tutti lavoriamo e tutti capiamo che è un sacrificio andare avanti oggi per tutti però il lavoro non ci manca grazie a Dio e meno male e allora dalle tradizioni cristiane passiamo alla notte più paurosa dell'anno quella appena trascorsa secondo la tradizione anglosassone ma anche americana noi abbiamo vissuto Halloween a Sigonella il villaggio degli americani della West Navy che lavorano appunto a Sigonella per captare un po' le sensazioni vissute negli States per capire la versione americana di Halloween bisogna viverla negli Stati Uniti solo lì si respira davvero l'effetto di una festa che in altre parti appare edulcorata probabilmente scimmiottata neanche troppo bene che unisce riti pagani a cerimonie religiose in un contesto che evoca il passaggio c'è la condizione umana che fa più paura di tante altre c'è però un'alternativa avere un amico militare americano che garantendo per te consenta quella notte l'ingresso in una delle enclave degli States nel resto del mondo che per l'occasione si aprono ai visitatori mostrando un pezzo d'America fuori dal suo luopatrio questo è Sigonella o meglio questo il villaggio marinai della Marina USA all'interno della stazione aeronavale della Marina Statunitense di Sigonella qui vivono 5.000 persone famiglie, coppie, single che ieri hanno trasformato il villaggio in una cittadina del Maryland o della Virginia luci soffuse tra vestimenti effetti speciali e giochi per suscitare tanta paura salvo poi regalare ai bambini bombonne e caramelle ma solo dopo la pronuncia della formula universalmente famosa dolcetto o scherzetto e così miriadi di bambini americani e italiani zucca in mano sono andati in lungo e in largo tra lapidi cimiteriale e scheletri umani a raccattare caramelle per nulla impauriti dalla fantasia macabra di taluni personaggi la lingua inglese e i ragazzi siciliani la conoscono bene più dei grandicelli e questo accorcia le distanze e riempie la zucca di caramelle e adesso e vabbè niente ormai sto così tanto il sangue si sta asciugando e niente ma non hai un po' di dolore qualche lacrimuccia ma no un pochettino di dolore ma tanto domani non c'è scuola quindi mi riposo secondo me l'effetto halloween dai eh sì diciamo che non è una ferita dai non è una ferita è solo uno uno scherzetto i ragazzini non si impauriscono di certo anzi è una festa anche per i più grandi very very good very very good ors cow a pork carl è il capo ufficio della pubblica informazione nasa americana sì halloween è una tradizione molto importante della cultura americana quindi noi ogni anno indossiamo questi costumi e lo celebriamo con il famoso dolcetto scherzetto e chiaramente con i nostri amici italiani il bello di questi open day è il fatto che diamo la possibilità ai nostri amici italiani e questo accade due volte l'anno in occasione del 4 di luglio e della festa appunto di halloween di aprire queste feste ai nostri amici italiani e dell'aeronautica e anche della nato di fatto l'impressione è quella che davvero halloween sia la ricorrenza più sentita dietro solo al 4 luglio cosa hai nella zucca? le caramelle tante caramelle? sì ma chi te le ha donate? ci sono tanti mostriciattoli ho visto sì forse sono stati loro? sì allora sono mostriciattoli buoni dai sì per gli americani è importante condividere questi momenti di gioia con la popolazione locale spiega Alberto Lunetta responsabile Sterne Nass americana questa è la seconda festa perché c'è stata la autumn fest che è stata la festa principale combinata insieme a quella che io chiamo una specie di ottobrata americana oggi invece si parla siamo qui per la tradizione genuina cioè quella che viene fatta nelle case dove i bambini passano vestiti in maschera e fanno il famoso dolcetto scherzetto quindi vengono distribuite tantissime caramelle ai bambini italiani e americane e si tratta di vere e proprie conquiste perché accade pure questo me lo regali uno? no perché no? no Candy? oh thank you happy Halloween? yes happy Halloween ciao 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 Catania ciao ciao particolare in provincia di Catania che torna segnando una tradizione che si era perduta a Mascali la fiera del bestiame esposti in via Conte Caracciolo zona centro sociale gli animali proprio come avveniva nel 1700 un evento atteso con una storia alle spalle di grande rilievo la fiera delle bestiame a Mascali taglia l'invidiabile traguardo della 25esima edizione stamattina in occasione dell'inaugurazione presente anche l'assessore regionale Marco Falcone insieme con il sindaco mascalese Luigi Messina tanti gli animali esposti per addetti ai lavori ma anche per la curiosità dei più piccoli è un appuntamento assolutamente importante questo qua io voglio ringraziare il comitato festeggiamento San Leonardo che ha fatto tutto logisticamente parlando per portare avanti questa manifestazione io li ho sostenuti aiutati ma il nostro aiuto il mio aiuto dell'amministrazione non avrebbe avuto i risultati che a oggi se non ci fossero stati i vertici dell'Asp che ci hanno sostenuto e hanno curato in maniera particolare tutta la procedura tant'è vero che adesso oggi ce l'abbiamo qua a fare da filtro per tutti gli animali che arriveranno qua con i mezzi e ci hanno aiutato tantissimo io devo dire grazie a loro se dopo qualche anno adesso è potuta ritornare questa manifestazione importantissima storica secolare che adesso ha pure un codice identificativo dottore e quindi tramite questo codice identificativo negli anni a venire si può facilmente rispetto a prima si può facilmente ripetere questa manifestazione perché appunto l'amministrazione significa continuità aiutare il territorio e noi lo possiamo aiutare sicuramente con manifestazioni del genere addetti ai lavori ma non solo anche tanti curiosi addetti ai lavori ma tanti curiosi e tanti mascalesi fedeli perché oggi si apre ufficialmente la festività religiosa di San Leonardo ed è un appuntamento importante perché per chi ci crede e per chi vive il paese in maniera proficua come lo facciamo noi con tanto affetto eventi come questi servono sicuramente a valorizzare il territorio certamente eventi come questi valorizzano il territorio e oltretutto creano aggregazione perché come vedete ci sono persone addette ai lavori e non che oggi sono presenti a questa manifestazione Qual è specificamente il vostro ruolo dottor? Il nostro ruolo è quello di dare una sicurezza sia alimentare che una sicurezza sul benessere e il regolare incresso degli animali alla fiera Anche perché oggi è sempre più difficile andare a controllare che tutto sia al posto Noi fortunatamente abbiamo un filtro sanitario che in Italia è uno dei più efficaci a livello europeo tanto è vero che siamo sempre riusciti a bloccare il manifestarsi di qualunque tipo di malattia infettiva vai all'influenza aviaria sia alla peste suina che altre malattie che ogni tanto emergono nel territorio ma che fortunatamente riusciamo a bloccare agli inizi Cronaca c'è un secondo caso di una sora in gravidanza in Sicilia dopo quella di un convento di un paese del Messinese che ha scoperto in ospedale di essere incinta oggi si è infatti appreso che un'altra suora originaria del Madagascar che svolgeva la sua missione in un paese nel Ragusano nell'istituto dove si occupava di assistenza agli anziani in attesa di un bambino la notizia della gravidanza risalirebbe a circa un mese fa la suora che fungeva anche da madre superiore ha lasciato l'istituto ed è tornata nel suo paese d'origine ancora Cronaca un incarico da 40.000 euro conferito nel 2015 senza avviso pubblico dall'ex direttore generale dell'ospedale Garibaldi di Catania Giorgio Santonocito all'ex assessore comunale Valentina Schalf quale medico esterno dopo diversi rinvii ha portato il giudice dell'udienza preliminare di Catania ad emettere il decreto che dispone di giudizio per abuso d'ufficio nei confronti dei vertici dell'azienda ospedaliera secondo l'accusa Santonocito avrebbe prima conferito e poi prorogato l'incarico professionale di medico esterno procurando intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale all'ex assessore comunale la privatizzazione dell'aeroporto di Catania parte Marilento abbiamo sentito sull'argomento il sindaco Salvo Pogliese come una partita a scacchi o forse meglio a dama perché c'è chi pensa di essere re o regina e chi vorrebbe che la trattativa sulla privatizzazione di Fontana Rossa fosse giocata ad armi pari come le pedine della dama appunto sull'aerostazione Vincenzo Bellini si apre l'avvio ponderato della privatizzazione dell'aeroporto attraverso l'ipotesi di vendita delle quote societarie oggi in mano alla Camera di Commercio del sud-est per oltre il 61% e l'altra parte non equamente diviso tra la regione siciliana attraverso IRSAP poi comune città metropolitana di Catania e libero consorzio di Siracusa se Catania e Camera di Commercio si sono già detti pronti ad attuare il percorso la regione siciliana ha chiesto un paio di settimane di tempo per far chiarire all'ufficio legislativo e legale alcuni aspetti burocratici che a molti sembrano però essere politici sugli investimenti che la regione sta effettuando per alimentare il sistema aeroportuale di cui potrebbe giovarsi il soggetto privato una volta acquistato Fontana Rossa Piano che mette definitivamente in cassa panca il sistema aeroportuale unico nella nostra regione tra 15 giorni alla SAC torneranno a vedersi probabilmente per mollare il freno a mano in realtà il percorso è stato già tracciato è votato all'unanimità 5 mesi fa quando anche l'IRSAP e quindi la regione ha espresso il proprio parere favorevole al cronoprogramma che porterà alla privatizzazione dell'aeroporto mantenendo una parte consistente di azioni detenute dai soci pubblici come è giusto che sia la regione ha espresso alcuni dubbi su alcune procedure che riguardano il libero consorzio di Siracusa nel caso specifico l'IRSAP e su questo ovviamente stiamo cercando di rimere questi dubbi come è giusto che si faccia ma il percorso è già assolutamente avviato abbiamo parzialmente stoppato la procedura per una quindicina di giorni a metà novembre organizzeremo una conferenza stampa per spiegare non soltanto la città ma tutta la Sicilia quello che si sta facendo è il motivo che impone questa scelta nell'interesse esclusivo del nostro territorio e di un aeroporto che ormai è il quinto in Italia che necessita di alcuni investimenti di centinaia di milioni di euro che nessuno dei soci in questo momento può finanziare poiché il libro consorzi Siracusa è andato in dissesto il comune di Catania in dissesto la Camera di Commercio non ha le risorse per farlo né la città metropolitana né l'IRSAP e quindi l'unica strada è quella della privatizzazione nel caso specifico della città metropolitana è l'unica strada altresì per poter chiudere il bilancio dopo tre anni di assenza nell'interesse esclusivo del nostro territorio quindi si va avanti si risolveranno questi dubbi e questi quesiti e poi ogni socio deciderà se e quanto vendere ma credo che sia la strada ormai imboccata decisa all'unanimità dei soci a proposito di aeroporto lunedì verrà stravolto il sistema aviario attorno appunto all'aeroporto di Catania per consentire il completamento dei lavori di costruzione del parcheggio P6 che verrà localizzato proprio nella parte centrale del sistema aeroportuale vediamo insieme scatta la fase di completamento dei lavori del nuovo parcheggio P6 che sarà dedicato alla lunga sosta in via di realizzazione nell'area dell'ex campo sportivo pertanto a partire dal lunedì prossimo e fino al 5 dicembre sarà necessario approntare alcune modifiche temporanee alla viabilità interna al sedime aeroportuale la prima fase scatterà dunque lunedì e si chiuderà sabato 9 novembre prevede che via Fontana Rossa sarà aperta nel tratto compreso tra la rotonda della guardia costiera e l'aerostazione esclusivamente al traffico in entrata verso l'aeroporto e verso la rampa partenze l'uscita da via Fontana Rossa sarà invece totalmente interdetta gli utenti pertanto potranno uscire attraverso la via Angelo da Rigo ricongiungendosi poi in via Santa Maria Goretti nulla cambia invece per gli utenti che transiteranno sulla rampa partenze e che come sempre usciranno dirigendosi verso la rotatoria di via Santa Maria Goretti questa prima fase di lavori comporterà la temporanea chiusura del parcheggio a sosta breve P1 in alternativa gli utenti potranno utilizzare le altre aree destinate la sosta breve da lunedì 11 novembre fino a giovedì 5 dicembre invece i lavori interesseranno l'area centrale del sedime aeroportuale e comporteranno la chiusura al transito di via Angelo de Rigo e la conseguente chiusura del parcheggio P3 nelle mori del completamento dei lavori i 14 stalli riservati e disabili attualmente posizionati all'interno del P3 saranno spostate all'interno del parcheggio P2 le auto eventualmente parcheggiate in precedenza al P3 dedicato anche alla sosta lunga avranno ovviamente la possibilità di uscire liberamente anche nei giorni di chiusura del parcheggio durante questa seconda fase quindi quella che scatterà l'11 novembre che si chiuderà il 5 dicembre l'uscita dal sedime aeroportuale sarà consentita solo da via Fontana Rossa nel frattempo completamente riaperta al traffico e dalla rampa partenze come sempre verso via Santa Maria Goretti la SAC è consapevole dei disagi che potrebbero verificarsi in questo periodo e quindi ha stabilito di procedere ai necessari quanto improcrastinabili i lavori proprio nel mese di novembre tipicamente considerato di bassa stagione i passeggeri e i loro accompagnatori però dovranno calcolare esattamente il tempo di percorrenza per raggiungere l'aeroporto tenendo conto delle eventuali file che potrebbero verificarsi sulle vie di accesso a causa proprio del lavoro o degli spostamenti dei mezzi di cantiere infine per consentire la realizzazione del parcheggio P6 ritenuta opera fondamentale per andare incontro alle esigenze di un'utenza in costante crescita sarà necessario anche rinunciare ad alcuni alberi di eucaliptus operazione obbligatoria questa per poter allargare la carreggiata la SAC in un comunicato si impegna sindora in collaborazione con le associazioni ambientaliste nella realizzazione di un'area verde in sede più appropriata questo per quel che riguarda la viabilità nella zona dell'aeroporto di Catania ma l'aeroporto di Catania è impegnato in questi ultimi due mesi nella corsa verso la doppia cifra del numero di utenti che a fine anno avranno fruito dei servizi di Fontana Rossa 10 milioni di passeggeri cifra da capogiro impensabile solo al pena alcuni anni fa e che davvero potrebbe essere raggiunta in questo 2019 dopo che nel 2018 quote 10 milioni non venne raggiunta per pochi utenti anche a causa delle continue eruzioni dell'Etna che bloccarono ricorderete più volte dell'aerostazione la vicenda dell'immigrazione la nave Juventa con lo scopo di salvare vite nel Mediterraneo è stata sequestrata circa un anno fa dalla procura di Trapani adesso sono stati notificati 10 avvisi di garanzia all'equipaggio nell'ambito di un'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina l'equipaggio della nave Juventa oggi è stato ospite a Catania perché sta cercando persone che sono state soccorse dalla nave umanitaria tra il mese di luglio del 2016 e l'agosto del 2017 affinché possano dare testimonianza e condivisione delle loro storie la nave Juventa lo ricordiamo fa parte della piccola ONG Junged Redtend torniamo nel Catanese andiamo ad Acibonacorsi i comuni sempre più smart e green arrivano le colonnine per ricare le auto elettriche alimentate con pannelli fotovoltaici passa in consiglio comunale ad Acibonacorsi il piano ecosostenibile della comunità etnea una vera e propria rivoluzione del modo di vivere la cittadina con 10 km di vista ciclopedonale collegamenti con i centri commerciali sempre in modalità smart l'ambizioso progetto prevede tutta una serie di interventi in centro e nella periferia per un finanziamento complessivo di circa 1.600.000 euro con parte dei fondi concessi da credito sportivo una somma importante per un comune di appena 3.500 anni mentre i municipi più virtuosi e meglio amministrati in Sicilia il primo step è stato già attivato con la messa in funzione delle colonnine di ricarica elettrica delle vetture del quartiere Sciara alimentate da questo impianto di pannelli fotovoltaici quindi autonomo rispetto alla rete elettrica pubblica riservate ai residenti e nonne come spiega l'assessore ai lavori pubblici Lucia Colosi il consiglio comunale ha finalmente approvato il regolamento il regolamento che istituisce un nuovo servizio pubblico e definisce le modalità di utilizzo di questo servizio le colonnine fanno parte di una stazione di ricarica che è stata realizzata qualche anno fa all'interno di un progetto molto più vasto un progetto che è stato finanziato attraverso il programma operativo Festre 2007-2013 l'asse 6 lo sviluppo urbano sostenibile che riguardava un po' la valorizzazione di tutto il quartiere Sciara attraverso questo finanziamento è stato possibile realizzare anche questa stazione di ricarica la stazione di ricarica comprende sia la pensilina fotovoltaica che producendo l'energia elettrica alimenta le colonnine le colonnine sono due ogni colonnina ha due attacchi per la ricarica delle auto elettriche attraverso il rilascio di una tessera dotata di RFID che verrà rilasciata dagli uffici comunali gli utenti sia residenti che non residenti con un canone annuale di 10 euro per residenti e 20 euro per i non residenti potranno usufruire del servizio di erogazione della ricarica di auto elettriche nel comune che si sviluppa su una superficie di appena 3 km2 verrà rimodulato l'intero sistema della mobilità interna più bici e spazi per i pedoni meno auto inquinanti e invadenti per il piccolo contesto urbano che vanta diverse aree a verde e centri di aggregazione sociale praticamente è stato uno dei nostri punti cardini che ci siamo prefissati in campagna elettorale portandolo appunto nel nostro programma elettorale privilegiare la pedonializzazione per far sì che a Cibonaccorsi si potrebbe muovere in maniera appunto pedonale abbiamo iniziato già subito dall'insediamento rifacendo i marciapiedi in via Garibaldi in varie step adesso c'è in corso un altro step di quasi metà di tutta la strada e presto come già annunciato in consiglio è stata approvata una grossa possibilità di fare dei progetti proprio appunto ciclo pedonali dove interesserà quasi tutto il paese per avvicinarlo ai vicini centri commerciali che si insediano nella vicina San Giovanni La Punta l'idea del primo cittadino Vito Di Mauro ha subito trovato il parere positivo della maggioranza consigliare che ha dato il via libera al piano di cittadina ecosostenibile è lo sbocco naturale di tutte le politiche che abbiamo fatto in questi 30 anni io credo che è arrivato il momento di dare spazio ai pedoni dare spazio ai ciclisti per poter mettere in moto una mobilità alternativa a quella delle auto altamente inquinante e che diventa poi pericoloso per i pedoni stessi e i ciclisti quindi stiamo creando dei percorsi alternativi per ciclisti e pedoni in modo che in sicurezza possano raggiungere ogni parte del paese questo progetto che ci impegnerà per tanti anni avrà un costo elevato perché arriveremo quasi a un milione e mezzo un milione e sei sono cifre per il comune importanti ma credo che già da quest'anno il prossimo anno riusciremo a fare gran parte delle opere proclamate bene rieccoci in diretta studio non ci sono notizie dell'ultima ora dunque ci fermiamo termina la seconda edizione di ora tg che avete visto sul canale 89 del digitale telesegna sicilia di re tv che avete seguito sul nostro sito internet o sulla nostra pagina facebook o sul nostro canale youtube prossimo appuntamento con ora tg domani alle ore 14 grazie per essere stati con noi buon proseguimento di serata sarà un inizio di weekend all'insegno del maltempo lo vedete nelle previsioni meteorologiche per la giornata di domani sabato 2 novembre il cielo sarà nuvoloso su tutta l'isola almeno nella porzione orientale qualche sprazzo di sole invece si avrà nella zona occidentale i venti saranno deboli i mari leggermente mossi uno sguardo adesso alle temperature che non variano di molto sia nei valori minimi che massimi a Catania rispettivamente previsti 18 e 22 gradi centigradi la temperatura più alta sarà rilevata nel palermitano la più bassa adenna con 11 gradi centigradi a Catania